Il decreto sostegni bis approvato dal governo nei giorni scorsi contiene numerosi articoli che riguardano il sistema scolastico, ma quello su cui sono puntati gli occhi della politica e del sindacato è il 59, comprende ben 21 commi ed è titolato Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente Si tratta di un articolo particolarmente complesso, ricco di novità importanti Farne una presentazione esaustiva in poco tempo è impossibile Ci limitiamo quindi a segnalare le disposizioni principali con una avvertenza In questo momento stiamo commentando il testo che è stato diffuso giovedì 20 Subito dopo la riunione del Consiglio dei Ministri Per una analisi più puntuale è bene però attendere il testo che verrà pubblicato a breve nella Gazzetta Ufficiale Cominciamo dalla norma forse più attesa cioè quella che dovrebbe consentire di coprire diverse decine di migliaia di cattedre a partire dal primo settembre prossimo Di questo si parla nei commi dal 4 al 9 In poche parole capiterà questo Dopo le assunzioni in ruolo legate al concorso straordinario allo scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi e ad altre misure contenute sempre nel decreto A tutti i posti vacanti e disponibili verranno assegnati docenti con tre anni di precariato alle spalle inseriti nella prima fascia delle GPS A questi insegnanti verrà attribuito un incarico a tempo determinato Si parla di diverse decine di migliaia di docenti che durante l'anno 2021-2022 dovranno poi svolgere un anno di formazione e di prova al termine del quale il comitato di valutazione formulerà il proprio parere Dopodiché questi insegnanti dovranno anche superare una prova disciplinare che sarà valutata da una commissione esterna Nel settembre del 2022 verranno infine immessi in ruolo Su questa ipotesi però non mancano le critiche puntate in larga misura sul fatto che la procedura esclude i precari con tre anni di servizio ma che sono inseriti non in prima fascia ma in seconda fascia Un'altra disposizione importante consentirà di svolgere durante l'estate un concorso ordinario per assumere 3.000 docenti per le discipline STEM Si prevede la partecipazione dei 21.000 docenti che già a suo tempo avevano presentato domanda Ma non piace il fatto che per questo concorso si prevede una prova scritta con 50 domande a scelta multipla Molti parlano di assunzioni in ruolo con test a crocette Altra norma molto criticata è quella secondo cui d'ora innanzi i docenti che non supereranno le prove di un concorso ordinario non potranno partecipare a quello successivo C'è chi sostiene che si tratta di una norma incostituzionale e annuncia battaglie legali Intanto va comunque detto che stiamo parlando di un decreto legge che dovrà passare all'esame del Parlamento Ed è molto probabile che qualche modifica anche significativa verrà apportata Per ora non sappiamo neppure se l'esame inizierà dalla Camera o dal Senato Sappiamo però che dovrà essere convertito in legge entro la fine di luglio Il tema è di grande attualità Quindi noi continueremo ad occuparcene su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Quindi continuate a seguirci mandateci le vostre lettere, i vostri commenti, le vostre osservazioni noi ne daremo conto come di consueto Grazie a tutti